Bentornati su Ciper TV, 11 marzo 2019 inizia una nuova settimana ed inizia con 4 round 4 time di 400 metri run, 21 calories bike e 15 toast bar. Come al solito pesi e scalature sulla grafica qui di fianco, ci rivediamo domani per un altro ruolo insieme su Ciper TV.